rickenbacker 481 deluxe semi hollow è una chitarra semi acustica con body carpet corpo scavato interamente a mano nel mogano vedete corpo in mogano manico in mogano tre pezzi private stock al ponte troviamo un vibrato bigsby pick up al ponte e al manico due pick up p90 intermedio un pick up tv jones tastiera 22 tasti meccaniche autobloccanti i comandi dei pick up allora questo è il volume generale questo è il tono che comanda il pick up p90 questo è il tono per il tv jones abbiamo due toni separati e un volume in comune con questo selettore possiamo scegliere se far funzionare il pick up al manico tutti e due tutti e due oppure solo quello al ponte quest'altro selettore invece decide quali pick up selezionare in questa posizione facciamo funzionare il p90 nella posizione intermedia facciamo un mix fra tv jones e p90 in questa posizione soltanto il tv jones è un potenziometro rotante non guardo le meccaniche che sono delle meccaniche shaller autobloccanti manico in tre pezzi body in un unico pezzo scavato con un top in cocobolo non guardo le meccaniche è un potenziometro Grazie a tutti